Se hai aperto questo video è perché vuoi arrivare a livello 200 in questa season il prima possibile senza shoppare i livelli. Se ho indovinato mi raccomando lascia subito un bel like al video, iscriviti al canale con la campanella attiva e soprattutto supporto a un creatore NAXX. Se hai fatto tutte queste cose possiamo partire e andare a vedere una mappa creativa veramente assurda, non bannabile per fare tantissimi livelli. Innanzitutto raga entriamo in creativa e il codice della mappa ve lo farò vedere dopo. Perfetto ho selezionato la mappa che andremo a vedere oggi che vi dico è veramente una cosa fuori di testa. E probabilmente quegli iscritti da tanto tempo con la campanella attiva che non si perdono mai nessun video sicuramente la conoscono. Perfetto aspettiamo che carichi il codice lo vedete lì in alto ma prima raga di inserire il codice fatemi provare a me quello che è questa mappa perché ci sono dei segreti e delle cose appunto che potete fare soltanto se guardate questo video dall'inizio fino alla fine che nessuno conosce appunto e che sono veramente assurde che vi danno tantissimo extreme. Innanzitutto siamo spawnati e ci ha dato subito 206 di esperienza ma cos'è la cosa assurda di questa mappa che veramente adoro? E' che andando in giro potete praticamente saltare su queste gomme salire qua in cima e prendere queste hack ragazzi che poi vabbè non è che sono hack sono potenziamenti del danno prendendole vi darà 4400 XP e si rigenera una volta ogni 30 secondi circa. Poi andando in giro ci sono anche due di questi potenziamenti vita che vi danno 841 XP e poi ce ne dovrebbe essere un altro nella parte blu che dovrebbe darvi lo stesso XP insomma però ce ne sono comunque altri mi sembra è in questa zona qua. No non è qui comunque in ogni caso se non lo trovate ragazzi potete tranquillamente aspettare qualche secondo nello spawn nemico quindi dove c'è l'altro potenziamento salute si rigenerà dopo pochissimi secondi e come vedete boom altri 841 XP. Guardate ragazzi è dopo pochissimo senza fare tagli senza fare niente si rigenera state qua e vi fate veramente tantissimi XP circa non lo so 20.000 in pochissimi minuti. Boom così altri 841. Il bello di questa mappa però è che potete farla anche con i vostri amici e con i vostri amici killandoli potete poi aprire un bunker segreto ve l'avevo già fatto vedere in un vecchissimo video però appunto aprendo questo bunker che ovviamente le risorse si ottengono che landi player beh vi dico solo che potete farvi un tipo un livello e mezzo anche due livelli semplicemente aprendo il bunker e cliccando il tasto che c'è all'interno. Se volete vedere anche come fare questo metodo non ve lo farò vedere adesso perché non ho nessuno con cui giocare in questo momento però potete tranquillamente andare a vedere il vecchio video che troverete comunque nelle scheda qualche parte in descrizione o comunque nelle schermate finali di questo video lo troverete però appunto questo video è incentrato su questo bug praticamente che non è proprio un bug perché vi ripeto non è bannabile di prendere questo potenziamento vita e farvi 841 XP ogni 3-4 secondi cioè guardate così veramente tantissimo cioè vi dà praticamente più delle missioni. Ci sono missioni che danno 750 XP e questo viene da 841 così veramente facilissimamente anche se non so se esiste come termine probabilmente no però avete capito e dopo un po' che fate questo tornate lì dove ci sono le hack e le troverete risponate ovviamente qua non sono ancora sponate lol sono sponate subito easy 4400 XP easy. Molto bello questo metodo ma non è assolutamente niente in confronto a quello che vi darà il bunker segreto che appunto vi lascerò nel video in alto a destra nelle schede ma la cosa bella ragazzi oltre a quel bunker è che se killate i vostri amici in questa mappa come vedete in alto c'è scritto eliminate player che vi darà XP se killate 3 volte i player vi darà circa 4000 XP e queste missioni si evolvono con le kill sostanzialmente fino a darvi un totale di 25000 XP ogni volta che killate le persone tipo 10 volte 15 volte le killate 10 volte boom 25000 XP quindi mi raccomando tutti mettete like al video iscrivetevi al canale con la campanella in attiva e condividetelo con tutti quanti i vostri amici se volete che faccio un video dove provo ad aprire il cavo un'altra volta per vedere se hanno aggiornato se danno più XP visto che la versione della mappa è cambiata potrebbe aver cambiato qualcosa magari aver messo qualche altro tasto segreto per sbloccare tantissimi XP gratuitamente. Questo era tutto mi raccomando a like iscrizione campanella in attiva codice NAXX nello shop e mi raccomando se volete un altro video in quella mappa o in altre mappe veramente assurde perché questa non era niente ce ne sono di più assurde che vi porterò se mettete veramente tantissimi like in questo video e se commentate scrivendo cosa ne pensate voi. Detto questo cliccate uno dei video schermo per restare aggiornati sulle news e sulle ricompense di Fortnite. Grazie a tutti.